Ancora numerose segnalazioni di raggiri sui contratti di fornitura dell'energia elettrica con finti addetti dell'Enel che trarrebbero in inganno i consumatori nella città di Agropoli a segnalarlo attraverso i social alcuni cittadini del posto che hanno denunciato la presenza di due ragazzi che si presenterebbero alla porta delle abitazioni in veste di addetti Enel. Hanno suonato il campanello dicendo di essere addetti Enel, ha messo in risalto una cittadina del posto. Ho risposto di essere impegnata e che non avrei aperto e uno dei due mi ha chiesto di entrare per lasciare una scheda. Spiega, ho detto di poter riporre tutto nella cassetta della posta ma sono andati via senza lasciare niente. Secondo alcune testimonianze diverse sono le contrade dove i due giovani si sarebbero aggirati. Il sistema è sempre lo stesso, chiedono di visionare la bolletta per controllare il numero utenza e ne approfittano per entrare in casa. Si invita dunque a prestare la massima attenzione, in particolare gli anziani soggetti più vulnerabili e a diffidare di questi truffatori. Nel caso qualcuno dovesse presentarsi alla propria porta è opportuno chiedere l'esibizione del tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento che hanno tutti gli addetti commerciali di Enel Energia, la società del gruppo che opera nel mercato libero dell'elettricità e del gas e tutti i tecnici di e-distribuzione, la società di Enel che gestisce la rete elettrica. Le verifiche dei controlli elettrici solitamente vengono effettuate a distanza. Solo in alcuni casi occorre una verifica del contatore direttamente sul posto attraverso personale qualificato. Il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas è possibile esclusivamente tramite bollettino postale, banca, carta di credito e bancomat da utilizzare presso gli sportelli automatici. Per ulteriore verifica il cliente può telefonare al numero verde 800-900-860 Enel Energia. In ogni caso è bene denunciare ai carabinieri quanto accaduto.